Che cosa sono gli ETN? E perché sono così importanti per l'investitore che è in perdita? Te lo spiego fra un pugno di secondi. Ben trovato lo chiamavano Saver, io sono Giacomo e sono qua ogni martedì alle 18 per darti pillole di educazione finanziaria. Ma se per te il mondo degli investimenti è troppo complicato, link in descrizione oppure inquadra il QR code che vedi in questo istante e prenota con noi una preanalisi gratuita del tuo portafoglio per valutare se puoi eventualmente proseguire affidandoti a noi per quanto riguarda la consulenza indipendente. Gli ETN sono dei fondi passivi che replicano degli indici sottostanti. Ma questo non è già l'ETF? Sì, ma con una piccola differenza. L'ETF è un fondo passivo, quindi ha sostanzialmente dei titoli a garanzia del portafoglio, diciamo così. Quindi la replica di un paniere di titoli deriva dal fatto che l'ETF ha in portafoglio quegli stessi titoli. L'ETN invece no. L'ETN è una passività emessa da un soggetto che si impegna a pagare sostanzialmente la differenza tra un valore iniziale e un valore finale del sottostante. Chiaramente viene ribasato giorno per giorno. Assomiglia a un derivato? Sì, e per certi versi lo è. Per cui la cosa fondamentale da sapere sugli ETN è che bisogna andare a capire cosa c'è dietro a livello di garanzia. Perché se l'ETN non è collateralizzato, cioè non c'è un portafoglio, non c'è un qualche cosa che garantisce che l'emittente poi sia in grado di fare quello che ha promesso, l'ETN potrebbe esporre al rischio emittente. E l'altra cosa importante, questo è il lato positivo di questo strumento, è che l'ETN genera solo e soltanto redditi diversi. Ovvero, se voi avete un'operazione inutile che avete fatto con un ETN potete compensare senza nessun tipo di problema una, per esempio, una perdita che avete avuto su dei fondi di investimento oppure sugli stessi ETF. Il consiglio è di utilizzare degli ETN che siano molto volatili per parti molto piccole del capitale. In questo modo avrete la possibilità di sfruttare la volatilità dell'ETN stesso per creare dei cospicui, ve lo auguro, utili diversi con cui compensare eventuali minusvalenze che avete generato. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, like, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella per essere aggiornati ogni volta ci sarà un contenuto nuovo, non solo tutti i martedì, ma anche magari qualche extra che altrimenti perderete. Buona settimana e buon investimento a tutti!